Un parcheggio da 20-25 posti e sopra una piazza, tutto dove ora sorge la riqualificata Via Goito, che rimasta per anni grande e incompiuta, potrebbe subire due restyling nel giro di pochissimo tempo. Stamattina iniziamo una serie di iniziative che si chiamano Idee per Cremona, progetti, proposte concrete per rispondere a un vuoto che in questi anni si è generato. Partiamo da qua, da Via Goito, dove abbiamo una proposta, un'idea, una proposta progettuale che tiene insieme una serie di esigenze, parcheggi per i commercianti e per i residenti, un luogo pensato per i ragazzi al piano superiore. Rilanciamo la città attraverso idee realizzabili e concrete. Lo studio di fattibilità, in attesa dell'indizione di una manifestazione di interesse, è dell'architetto Federico Fasani. Questo è uno studio di fattibilità che prevede la creazione di un edificio su due livelli, un livello a piano strada o comunque poco ribassato, circa 50 cm più basso del piano dove siamo ora. Al piano superiore si sviluppa invece una piazza, vera e propria, uno spazio urbano aperto sul quale si affacciano dei locali anche chiusi che possono ospitare attività ricettive come piccola ristorazione, una caffetteria, ma anche spazi per il co-working, spazi per lo studio, spazi per manifestazioni e per tutto quello di cui una città potrebbe avere bisogno.